ciao amici di alberà vi mostro una cosa questa mattina le temperature sono andate sotto lo zero quindi guardate qui guardate il telo è pieno di ghiaccio stiamo parlando di temperature sotto lo zero proibitive per le piantine invece le mie piantine sono tutte su con questo tipo di temperature le piantine dovrebbero essere tutte morte e invece guardate che spettacolo sono tutte in piedi nonostante il ghiaccio amici non ci siamo temperature sotto lo zero la terra è ghiacciata il telo è ghiacciato non so se lo vedete le piantine stanno capitolando le piantine oramai sono quasi andate quindi nonostante il telo nonostante i miei accorgimenti vedete vedete che le piantine si stanno rovinando qualcuna sta un po' meglio ma i danni sono ingenti nonostante 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 questo nonostante ci siamo qualcuna si è salvata ma parliamo di ghiaccio amici non ci siamo terzo giorno di fila con temperature sotto lo zero quindi il telo è gelato è congelato vedete che non so se vi faccio vedere ghiaccio sul telo non ci siamo temperature proibitive la maggioranza delle piantine sono capitolate quindi i pomodori si sono congelati dovremo rifare l'impianto anche se per esserci state queste temperature parliamo di meno 2 meno 3 gradi l'esperimento è riuscito alla perfezione perché nonostante tutto alcune piantine sono ancora in piedi ovviamente io non avevo predisposto questo impianto per resistere a tali temperature ma quindi dovrò rifare l'impianto di pomodori perché comunque sia il pomodoro sotto i 10 gradi rallenta la crescita a 4-6 gradi muore qui abbiamo avuto temperature di meno 2 gradi anche meno 3 nonostante tutto alcune piantine sono ancora vive però sicuramente sarà compromessa la loro crescita quindi a questo punto nessuno poteva nessuno poteva resistere a tali temperature nonostante i miei accorgimenti avrei dovuto sicuramente piantarle in una serra ma magari anche riscaldata perché meno 2 meno 3 gradi sono temperature proibitive vi ricordo che il pomodoro a 10 gradi rallenta la crescita a 4 gradi 4-6 gradi muore secondo la maggioranza degli opinionisti qua le temperature sono andate sotto zero per tre giorni di fila ma vi ripeto l'esperimento questo è un buon risultato perché abbiamo testato temperature proibitive nonostante tutto alcune piantine non tutte sono ancora in uno stato vegetativo non sono morte quindi se il telo funziona si protegge le temperature minime ovviamente a tutto c'è un limite temperature sotto lo zero sono proibitive anche se usiamo il telo anche se usiamo la proprietà fermentativa dell'etame non possiamo spingerci sotto lo zero a meno che non usiamo delle serre anche riscaldate a questo punto vedete questo è il tipico effetto del ghiaccio ghiaccia la piantina poi come si scioglie il ghiaccio la piantina perde struttura e si affloscia eccola qua amici alcune piantine si sono salvate nonostante le temperature proibitive sotto lo zero di meno due meno tre per tre notti di fila quindi la prova per me è riuscita l'impianto andrà rifatto l'impianto andrà rifatto sicuramente però perché non c'è pomodoro all'aperto in campo che tenga temperature sotto lo zero però considerate che normalmente il pomodoro blocca la crescita a 10 gradi e muore a 4-6 gradi intorno ai 4 gradi muore qua stiamo parlando di meno due meno tre la maggioranza delle piantine si sono ghiacciate ma ce ne sono nonostante tutto grazie al telo grazie al mio lavoro preventivo ce ne sono una ventina che sono intatte non di più una ventina sono proprio vedete nonostante tutto non sono tutte morte ora bisognerà vedere lo stato vegetativo di queste piantine quanto resisteranno io per curiosità lascerò le piantine che si sono salvate sostituirò quelle bruciate e vedremo come cresceranno perché solitamente se la piantina di pomodoro prende freddo blocca in modo critico la crescita quindi tutti gli esperti sono concordi nel dire che fai prima si fa prima a rimettere le piantine che aspettare che crescano quelle che hanno preso questo tipo di freddo ora io sono d'accordo ma lo voglio vedere quindi cosa facciamo lasciamo le piantine che sono sopravvissute a questo gelo 10, 20 quelle che siano 30 anche perché non di più la maggioranza sono morte e rimettiamo tutte le altre così vediamo la differenza nella crescita vediamo la differenza nello sviluppo e nella produzione di pomodori per me e per tutti voi che mi seguite può tornare più utile amici il mio video termina qui vi ringrazio per l'attenzione un saluto e un abbraccio di cuore